Cinque gare nei prossimi 21 giorni. Subito la Juve Stabia all'Adriatico, sabato alle 14.30, quindi due trasferte di fila ad Agropoli contro la Gelbison domenica 12 marzo e a Messina, turno infrasettimanale in programma mercoledì 15. Poi Turris in casa e Catanzaro fuori sabato 25 marzo. A Zeman il compito di rivitalizzare la squadra. A nove giornate dall'epilogo l'obiettivo è difendere il terzo posto e nel contempo migliorare condizione fisica, mentalità e aspetto tattico. Quanto più il Boemo sarà flessibile, quanto meno integralista, tanto più potrà porre rimedio ad una situazione oggettivamente non facile. Il terzo debutto si avvicina. Oltre a Craia sarà assente anche Jabba per una fastidiosa distorsione alla caviglia. Di conseguenza Pescara corto a centrocampo nel ruolo di play. Zeman rilancerà Palmiero. Certo l'impiego di Mora, assai probabile quello di Aloy. Raffià provato nel ruolo d'interno. L'ex Juve rischia di restare almeno inizialmente ai margini. Davanti Merola, sicuro della maglia. In crescita l'Escano, ad oggi in vantaggio su Bergani. Recuperato De Sogus, ma a sinistra il favorito è Marco delle Monache. Dietro sembra scontato l'utilizzo di Milani sulla fascia Mancina, il luogo di Crescenzi. Juve Stabia in grave difficoltà con Sandro Pochesci, sostituto del dimissionario Leo Colucci. Un solo punto in cinque gare. Le vespe sono scivolate al nono posto. Panchina a rischio. Fuori l'ex Mignanelli causa infortunio. In dubbio l'italo-brasiliano dell'Orfanello. Sono due gli incroci tra Zeman e Pochesci. 2 dicembre 2017. Serie B. Pescara-Ternana 3-3. Tra i pali della porta Umbra il 17enne Alessandro Plizzari. Biancazzuri avanti 2-0. Reti di Valzania e Pettinari. Nella ripresa rimonta e sorpasso dell'undici di Pochesci. Gol di Montalto, Trebolada e Valient. In pieno recupero, con questo poderoso tracciante, Valzania realizza il 3-3. Sei mesi prima, invece, amichevole benefica al Barbati di Pescina con il Fondi. Squadra di Serie C allenata appunto da Pochesci. Il Pescara di Zeman si impone 4-1. La sblocca Muric. Momentaneo pari di Giannone. Nel secondo tempo, le altre marcature di Caprari, Campagnaro e Alberto Gilardino.